Non prendere per il culo mia mamma, altrimenti va in confusione, hai capito? Certo! Ciao nonna, tutto bene? Sì. Sì. Non porti ancora il pannolone? Qualche volta? Quando mi ricordo? Dai, non fa niente. Io essere molto contenta e onorata a fare il badante, signora anziana. Puoi entrare? Devo andare in bagno. Fa niente, sei straniera. No, figurati. Allora andiamo. Vieni con me. Attenzione che c'è il basello. Dovrei ancora pisciare. Oh, allora sai te che c'hai addosso il profumino? Allora nonna, sei sicura che hai messo il pannolone oggi? Come mai tutta questa gente? Tua moglie si rasa la patata! Sì, vero. Il tuo barbiero è un coglione! È vero. Ciao! Diamo. Dai. Ti avevo detto di non prenderla per il culo alla nonna, che poi mi si confonde. Ciao. Coglione. Hai proprio ragione. Come li faccio a sposarle? Presidente, questo qui, questo ragazzo è un fenomeno. Guardi, riesce a cantare tutto l'inno nazionale con i riusci dall'inizio alla fine. È una cosa pazzesca, glielo giuro, deve farglielo sentire. Quelle robe qua devi tenerle strette, ne? Grazie, Presidente. Sono mica robe da sottovalutare quando c'è il talento. Eh? Io facevo le scorreggie con le ascelle e mi sono sbagato il polso e buona. Ho beccato il Salvini che parlava con una tua guardia prima. Ti ha detto fuori i coglioni. Ho beccato il Salvini che parlava con le ascelle e mi sono sbagliato.